Buonasera a tutti dalla redazione e benvenuti a Tg Reggio. In primo piano le elezioni politiche, la coalizione dunque del centro-sinistra vince di misura alla Camera ed ottiene il premio di maggioranza. Il Movimento 5 Stelle risulta però essere il primo partito in Italia, al Senato però non c'è la maggioranza. Nella nostra provincia arriva l'onda dei grillini, il Movimento 5 Stelle risulta essere il secondo partito e sempre nel Reggiano si sono registrate pesanti flessioni per PD, PDL e per la Lega Nord. Questo è quello che è uscito dalle urne a livello nazionale e provinciale, lo approfondiremo durante questa edizione del nostro telegiornale. Ma intanto andiamo a ricapitolare quelli che sono stati i risultati, i risultati definitivi. Partiamo con i risultati definitivi a livello nazionale per quanto riguarda la Camera dei Deputati. Qui vedete le coalizioni, la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi arriva al 29,1%, conquista 124 seggi. La coalizione di centro-sinistra guidata da Pierluigi Bersani arriva al 29,5%, scatta dunque il premio di maggioranza, i seggi per la coalizione di centro-sinistra sono 340. 25,5% sono le preferenze conquistate dal Movimento 5 Stelle, 108 i parlamentari, le persone che Grillo manderà a Montecitorio. 10,5% è il risultato sotto le attese del Presidente del Consiglio uscente Mario Monti, 45 per lui i deputati. Non superano la soglia dello sbarramento la lista di Ingroia e la lista di Giannino fare per fermare il declino. Vedete i risultati sono 2,2% delle preferenze, l'1,1%. Andiamo ora a vedere quelli che sono i risultati definitivi per quanto riguarda il Senato. Risultati sempre di coalizione, 30,7% per la coalizione di centro-destra di Silvio Berlusconi, 117 seggi. La coalizione di centro-sinistra arriva al 31,6% con 120 senatori. Beppe Grillo arriva al 23,8% delle preferenze, sono 54, saranno 54 dunque i senatori aderenti al Movimento 5 Stelle. 9,1% è la percentuale delle preferenze conquistate dal Presidente del Consiglio uscente Mario Monti, 18 per lui i senatori. Anche qui nulla di fatto per la lista Ingroia che arriva all'1,8% e per Oscar Giannino 0,9%. Dunque, come dicevamo al Senato, non c'è la maggioranza. Per il Partito Democratico l'esito delle elezioni di domenica è stata una doccia fredda sia a livello nazionale che a Reggio. Oggi Pierluigi Bersani ha detto non abbiamo vinto anche se siamo primi. Ha risposto no ad un governissimo con Berlusconi e ha invitato il Movimento 5 Stelle a prendersi le sue responsabilità dopo il successo ottenuto. Ha riconosciuto che il passaggio è difficile ma ha detto di non essere uno che abbandona la nave. Il LPD è preoccupato anche in provincia per la flessione pesante rispetto al 2008. Il dato comunale che brucia di più al Partito Democratico è quello di Castellarano dove nel voto per la Camera è stato sorpassato di ben sette punti dal Movimento 5 Stelle. 29,1% contro il 36,3% di Beppe Grillo. Stessa sorte anche se soltanto con uno 0,4% di differenza gli è toccata nel vicino comune di Toano. In tutta la provincia il PD sconta una flessione del 9,5% rispetto alle politiche del 2008 e a livello nazionale c'è l'incognita dell'ingovernabilità visto che non esiste una maggioranza al Senato. Un dato molto preoccupante sul piano della governabilità toccherà al PD avanzare delle proposte avendo la maggioranza alla Camera avanzare le proposte per vedere se si riesce in qualche modo a dare a un governo una maggioranza. Il PD ha superato il 50% solo nella Roccaforte di Fabrico. In città si è piazzato mezzo punto oltre la media del 40,9%. In molti comuni della Bassa, della Val Denza e della Valle del Secchia ha ottenuto risultati inferiori alla media. La tenuta migliore è nei comuni della media pianura come Correggio, Novellara, Campagnola, Rio Saliceto e Rolo. E già si pensa alle amministrative del prossimo anno. Quasi ovunque stiamo sopra la soglia del 40%. Questo non deve rassicurarci perché siamo alla vigilia di una campagna di amministrative che partirà tra pochi mesi, per il 2014, a partire dal Comune Capoluogo e che sarà particolarmente impegnativa. Modesti anche i risultati di Sinistra Ecologia e Libertà che ha avuto in tutta la provincia il 2,9%. I risultati migliori, superiori al 4%, sono a Cavriago e Fabrico. Già si interroga sull'eventualità di nuove elezioni a tempi brevi. Non so dove andremo a finire, anche per i rischi dal punto di vista della situazione economica e finanziaria. Quindi questo Paese ha bisogno che qualche cosa si faccia immediatamente. Parliamo ora di quello che è stato già definito il fenomeno di politico di queste elezioni, il Movimento 5 Stelle, un fenomeno che, come dicevamo, ha investito anche la nostra provincia. Il suo tour elettorale di comizi spettacoli in 77 piazze italiane lo aveva battezzato tsunami, maremoto, l'onda che distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino. Lo tsunami politico originato da Beppe Grillo non risparmia neppure la provincia di Reggio, dove il Movimento 5 Stelle ottiene il 24% dei voti, risultando il secondo partito in ben 40 comuni su 45. In altri due, Castellarano e Toano, risulta addirittura il primo partito davanti al PD, con un bottino rispettivamente del 36% e del 30% dei voti. Nella comune capoluogo i grillini siedono in consiglio comunale dal 2009, quando si presentarono alle amministrative, con una propria lista e un proprio candidato sindaco, Matteo Olivieri. Pur in un raffronto non omogeneo, è utile ricordare che 5 anni fa avevano ottenuto 2.892 voti, il 3,3%, dalle urne di queste politiche. A Reggio Città il Movimento 5 Stelle esce con 21.578 voti, il 22,8% del totale. Dei 54 eletti al Senato e alla Camera nelle liste 5 Stelle, due arrivano proprio dalla nostra provincia. Le porte di Palazzo Madama si aprono per Maria Mussini, 46 anni, insegnante al Liceo Classico a Riosto Spallanzani. A Montecitorio entra invece Maria Edera Spadoni e la 33enne assistente di volo ospite ad Habitat a riassumere ciò che faranno ora i grillini in Parlamento. Non è che siamo lì per fare opposizione, perché non è un tipo di mentalità che ci appartiene. Cioè la mentalità del tipo destra-sinistra, quindi se io sono da questa parte io non posso approvare altre cose, non rientra nei nostri canoni. Invece la mentalità è quella di appoggiare delle proposte che più si avvicineranno all'esigenza del sicuro cittadino. Sotto le attese il risultato del Presidente del Consiglio uscente Mario Monti, il risultato provinciale in linea con quello nazionale. Nella nostra provincia scelta civica arriva a 8,2 punti percentuali. Il comune dove è stato più votato è Guastalla con il 10,9%. A Castelnuovo sotto i montiani si fermano all'8,1%. Dunque non riesce l'effetto traino dell'ex sindaco Simone Montermini appunto in lista con Monti. Bene i risultati ad Albinea, Santilario e Villaminozzo tutti sopra il 10% dove invece sembra aver influito la presenza di candidati locali inseriti in lista. Il risultato più magro per quanto riguarda sempre scelta civica con Monti, 3,8% arriva da Collania. Pesanti flessioni dicevamo nella nostra provincia per il centrodestra. Vediamo. Ha perso quota ma alla fine ha volato lo stesso l'aeroplano di Berlusconi in questa tornata elettorale. I punti lasciati per strada rispetto alle politiche 2008 sono ben 16. Uno scarto che alla vigilia si prefigurava però più marcato. Un recupero assolutamente inaspettato. Per quanto riguarda invece il voto provinciale purtroppo non essendoci tolto al decimo posto Cristina Fantinati candidati in posizioni di punta reggiani questo ha contribuito a perdere un po' di consenso. I numeri del PDL circoscritti alla nostra provincia parlano chiaro. Rispetto a 5 anni fa l'appello manca un 10%. I voti dei reggiani berlusconiani alla Camera sono il 13,46%. Alle scorse politiche erano il 23,63%. I comuni dove il PDL va meglio sono Brescello col 23,2% e Vetto col 21,7%. Il minimo di preferenze 9% si registra a fabbrico seguito da Campegine col 10%. A sgonfiarsi sul serio in queste elezioni è la Lega Nord. A livello nazionale dall'8,29% di 5 anni fa passa al 4%. Nella nostra provincia il bottino del carroccio si ferma al 2,48%. Sei punti di scarto rispetto al 2008 quando i reggiani a votare Lega erano stati l'8,5%. Se stringiamo l'analisi al comune di Reggio sembrano passati anni e luci dalle scorse amministrative quando il candidato sindaco Alessandri arrivava al 18,24%. Usciamo da un anno di situazioni di un congresso federale, cambio del segretario, scandali con amministratori nostri, quindi il risultato è questo. Il carroccio resiste solo a Collagna dove supera i 7 punti percentuali. Va male invece a Viano, col 2,8%, comune che quattro anni fa aveva eletto un sindaco leghista, Giorgio Bedeschi, poi uscito dal partito. Flop, come dicevamo anche per Oscar Giannino e per la sua formazione, fare per fermare il declino e resta ferma al palo anche Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia, senza alcuna possibilità di entrare né alla Camera né al Senato. Un fallimento per le liste che appoggiavano l'ex PM di Palermo, comunisti italiani in rifondazione e Verdi e poi anche l'Italia dei Valori con Antonio Di Pietro che resta senza poltrona dopo 16 anni. Rivoluzione Civile alla Camera si ferma al 2,25%, raccogliendo nella nostra provincia il 2%, un'adesione cioè ancora più risicata. E ora andiamo a ricapitolare in questo servizio quali sono, secondo i primi calcoli effettuati dopo il voto, gli eletti reggiani in Parlamento. Sono 7 i candidati reggiani che entreranno in Parlamento, 5 alla Camera e 2 al Senato. Il Partito Democratico porterà a Roma 5 degli 8 reggiani in lista in Emilia-Romagna. Un risultato storico a fronte della significativa flessione del partito che ha perso circa 10 punti percentuali. Questo grazie al sostanzioso premio di maggioranza. Alla Camera andranno quindi il sindaco di Albinea Antonella Incerti, il deputato uscente Maino Marchi, già dati per certi, ma anche l'assessore cittadino alla mobilità Paolo Gandolfi e Vanna Iori, docente universitaria. Soddisfatta Antonella Incerti che però si rammarica per il risultato delle elezioni che di fatto consegna alla politica un'Italia ingovernabile. C'è soddisfazione a livello personale ma soprattutto perché io mi ero resa disponibile con la mia candidatura a dare un contributo secondo le mie possibilità a cambiare questo paese. Certo c'è tutto il ramarico poi di trovarsi in una situazione di grossa difficoltà, di grande ingovernabilità e soprattutto con la tensione di forse non riuscire a lavorare su alcune cose su cui avrei tenuto in modo particolare. Per il PD rientrerà in Senato Leana Pigneduli insieme a uno delle due candidate reggiane del Movimento 5 Stelle, Maria Mussini, docente di latino e greco. Non solo una soddisfazione per noi ma anche un segnale, una sveglia per tutti gli altri. Noi siamo pronti a vedere che cosa ci verrà proposto, a valutare i gesti che verranno proposti e a vedere se saranno dei gesti coerenti con i punti del nostro programma e se saranno per il bene del paese e noi ci saremo. La settima reggiana in Parlamento sarà Maria Edera Spadoni, eletta alla Camera nella lista di Beppe Grillo. Non ce l'ha fatta invece Cinzia Terzi, quarta per Sinistra Ecologia e Libertà in Emilia Romagna. Il partito di Nichi Vendola è riuscito a portare soltanto due candidati emiliano romagnoli a Roma. Niente da fare anche per Simone Montermini, ex sindaco di Castelnuovo Sotto, candidato con la lista civica per Monti con l'Italia. Un quadro molto complicato per noi, un po' sotto le aspettative, comunque un risultato che ci permette di gettare le basi per la costruzione del nuovo movimento politico. Il risultato elettorale ha avuto ripercussioni molto negative in borsa e a farne le spese sono state anche le società quotate a piazza affari presenti sul territorio reggiano. La penalizzazione più pesante è toccata ai titoli delle banche. Il Banco Popolare, di cui fa parte San Gimignano e San Prospero, ha perso più del 10%. Credem, Unicredit e Popolare dell'Emilia hanno registrato ribassi superiori all'8%. Andamento decisamente negativo anche per IREN con meno 7%, per Landi Renzo con meno 5%, per EMAC con meno 3,9%. Ora andiamo a ricapitolare come sono andate le elezioni nella nostra provincia. Partiamo, lo vediamo dalla grafica, partiamo dai partiti. Nella nostra provincia il Partito Democratico dunque ha guadagnato il 40,1%, una flessione di 10 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2008. SEL si ferma al 2,9%, Centro Democratico allo 0,2%. Il PDL arriva al 13,5%, una flessione anche in questo caso di 10 punti percentuali rispetto al 2008. La Lega Nord, vedete la pesante perdita di consensi della Lega Nord che dall'8,5% passa al 2,5% e poi vedete la destra 0,2%. I grillini 24,3% il risultato del Movimento 5 Stelle, la lista Cifica per Monti l'8,2%, l'Udc di Casini 1,1%, anche in questo caso una pesante flessione. Lo 0,2% sono le preferenze di Fini Futuro e Libertà e poi la lista di Ingroia 2,1% e fare per fermare il declino 1,1%. Ora dovremmo avere le grafiche delle coalizioni nella nostra provincia alla Camera. La coalizione di centro-destra è arrivata al 17,7%, la coalizione di centro-sinistra al 44,1%. Il Movimento 5 Stelle è arrivato al 24,3%, Mario Monti all'8,2% e poi Ingroia 2,1% e Oscar Giannino 1,1%. Ebbene, sull'andamento delle elezioni ascoltiamo il commento del direttore di Telereggio, Paolo Bonaccini. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia. L'hanno votato alla Camera 8.689.168 cittadini, 45.000 in più del PD, 1.350.000 in più del PDL. Rispetto al 2008 5 Stelle segna un più infinito per cento, perché allora non c'era. Sono nati in questa legislatura e in meno di cinque anni sono diventati il primo partito d'Italia. Ha ragione Maria Edera Spadoni, reggiane elette in Parlamento con Grillo, quando dice questa è una rivoluzione. E allora se una rivoluzione è in atto nel paese, con lo stesso impatto al nord come al sud, nelle pianure rosso PD dell'Emilia, come sulle montagne Verde Lega del Veneto o tra le colline azzurro PDL della Campania, non sembra più esserci spazio e tempo per le facce decotte, come le descrive impietosamente Aldo Grasso oggi sul Corriere della Sera, che restano lì a balbettare di responsabilità verso il Paese o di amarezza per il voto o di necessità di riflettere sugli errori commessi. I partiti della Seconda Repubblica non hanno commesso errori, sono essi stessi degli errori. Questo sembra dirci lo tsunami di ieri. Il primo errore di fondo è fare politica non ascoltando i cittadini, anzi fregandosene di ciò che pensano. Il secondo è farla fregandosene delle conseguenze che essa produce sui cittadini. Il terzo è dare la colpa ai cittadini, se non capiscono non condividono ciò che dice e fa la politica. Va a finire così che i cittadini si stufano e 5 Stelle frega tutti in 5 anni, che non sono pochi a pensarci bene, sufficienti per guardarsi attorno e capire gli umori, per spingere un partito a cambiare aria e registro, uomini e linguaggi. Ma non sembra essere andata così. I flussi elettorali sono impietosi. A Reggio Emilia il PD ha perso 35.000 voti, il PDL 34.000, la Lega 20.000. Di questi l'85%, 76.000 voti sono andati a Beppe Grillo. Un travaso impressionante, soprattutto pensando che il 2014 è alle porte. PD più Sel più Ingroia nel comune di Reggio Emilia arrivano oggi al 46%, mentre quattro anni fa chi sosteneva Del Rio era al 52%. E allora la neonata a 5 Stelle ottenne solo il 3%, 3.000 voti. Oggi ne ha già 73.000 in più ed ogni giorno che passa le adesioni aumentano. Serve una rivoluzione appunto, ma in casa del PD, se vuole continuare a governare? Telereggio ha seguito lo scrutinio dei voti con una serie di trasmissioni in diretta, dirette, che sono cominciate ieri alle 15, proprio subito dopo la chiusura dei seggi. E in queste occasioni sono stati davvero tanti reggiani che hanno voluto intervenire, appunto telefonando nei nostri studi per raccontare e dire le loro opinioni. Matteo Grillo è stato assolutamente presente in maniera massiccia nella televisione, senza dover reggere il contraddittorio. Allora, vediamo se dalla regia hanno qualche altra... Quasi dieci ore di diretta. Telereggio ha dedicato una serie di trasmissioni all'informazione e al commento dello scrutinio dei voti per le elezioni politiche. Un impegno che è cominciato subito dopo la chiusura dei seggi. Nel mondo i quotidiani parlano di noi, allora ad esempio... Per quanto riguarda la nostra provincia, il calo della Lega Nord... Tanto credo che ci sia da registrare una forte critica, una forte disaffezione dell'elettorato rispetto ai partiti tradizionali. Dopo un'edizione di Tg Reggio raddoppiata rispetto ai tempi normali, in serata una puntata speciale di Abitat ha ospitato candidati e dirigenti politici. In termini relativi, la coalizione che ha più seggi al Senato... Devo dire che personalmente va oltre le aspettative. Allora qualcosa bisognerà fare, bisognerà cambiare i meccanismi della politica. Poi di nuovo, il giorno dopo, puntata speciale di Buongiorno Reggio per i commenti dopo la lunga nottata di diffusione dei dati da parte del Ministero dell'Interno. Ed è stato anche il momento delle telefonate dei telespettatori. Ha lasciato dare reti che piaceva tanto ai giovani. Hanno sbagliato già per la seconda volta, anche con Prodi. Ho sempre votato a sinistra, però questa volta per protesta, per vedere se i nostri politici si svegliano, ho votato 5 stelle. Oltre alla diretta in video, Telereggio ha offerto notizie sul proprio sito internet che ha raddoppiato i contatti. Successo anche per la diretta streaming. In questi giorni, dunque, è cambiata la nostra programmazione. I programmi del lunedì sera sono stati spostati a questa sera. Alle 21, dunque, questa sera andrà in onda i diritti in diretta, in studio con Aura Algeri, Cinzia Scagliarini, dell'Inca, di Reggio Sud. Potete intervenire appunto telefonando nei nostri studi. Parleremo tra l'altro della compilazione dei modelli RED, di controlli per la malattia e del problema degli esodati. In seconda serata, dopo la replica di TG Reggio, appuntamento con lo sport, in particolare con il basket e con la trasmissione Reggio a canestro. Ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. A tra poco.